Terminati gli approfondimenti che l'assessore alle infrastrutture e mobilità della regione toscana Stefano Baccelli aveva sollecitato a RFI e Trenitalia, ora tutte le opzioni tecnicamente percorribili sono in via di stesura. A presentarle ai sindaci e al comitato pendolari Valdarno Direttissima sarà lo stesso assessore nell'incontro convocato per martedì 16 aprile in regione. Si è sollevata una grande agitazione per il rinvio dell'incontro del 26 marzo, dichiara l'assessore Tengo a chiarire, che l'impegno della regione invece va appena oltre un singolo incontro e non ha dunque subito alcuna battuta d'arresto. Tra i passaggi compiuti in questo periodo anche l'interlocuzione con il collega Umbro Enrico Melasecche, con il quale giovedì 18 aprile Baccelli intende valutare ogni provvedimento utile a porre fine ai disagi registrati sul regionale 4070. Treno, che pur non ricadendo nel contratto di servizio della regione toscana, registra un'elevata frequentazione dei pendolari del Valdarno. L'appuntamento dunque con i sindaci e con il comitato dei pendolari è fissato per martedì 16 aprile alle 16 negli uffici della giunta regionale.